Il turismo, da ottobre su PQ Channel, canale 934 di Sky. L'arte, da ottobre su PQ Channel, canale 934 di Sky. L'architettura, da ottobre su PQ Channel, canale 934 di Sky. Il design, da ottobre su PQ Channel, canale 934 di Sky. La moda, da ottobre su PQ Channel, canale 934 di Sky. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.